ciao ragazzi benvenuti alla 34esima pillola d'inventor e se come sempre sono in ritardo vabbè non lo faccio in modo molto continuativo perché di fatto è oneroso in termini di tempo preparare lezioni e tutto il resto però insomma ogni tanto dai cerco di inventarmi qualcosa di nuovo da insegnarvi la lezione di oggi la pillola di oggi è la sono le interferenze la gestione delle interferenze di inventor è molto utile quando si fanno assiemi complessi ma anche assiemi semplici per vedere come interagiscono tra di loro se si toccano se hanno delle interferenze vere e proprie e scoprire dove sono queste interferenze allora partiamo da una parte facciamo il nostro bello schizzo come sempre non guardate adesso le dimensioni non ci interessano relativamente facciamo i nostri due elementi facciamo il primo pezzo lo facciamo ruotare intorno a quest'asse qua in modo continuo di 360 gradi ora torniamo sulla visualizzazione dello schizzo scusate volevo farlo rendere visibile non ci riesco eccolo qua visibile adesso facciamo un'altra rotazione solo di questa parte rispetto all'asse prendiamo sempre lo stesso asse non lo facciamo continuativo ma lo facciamo non so di 20 gradi anzi facciamolo di 10 gradi ricordiamoci di fare nuovo solito perché faremo un assieme ed ecco qua il nostro primo corpo in realtà in questo caso potevamo fare un solo elemento perché il secondo elemento lo creiamo adesso andiamo a creare a lavorare di nuovo sullo schizzo edit sketch e questa volta facciamo una cosa che di questo genere questa volta facciamo l'estrusione semplice facciamola di 5 mm e qua devo ricordarmi invece che deve essere un altro solido eccolo qua facciamolo anche più piccolo 3 mm anzi no adesso mi ha ripreso i pollici devo ricordarmi di mettere unità di misura per comodità facciamo un foro di questo genere ci tornerà utile dopo per fare il vincolo avendo girato il verso come vedete capisce già che deve eliminare automaticamente cancella tutti i solidi se non gli dico niente scusate se non gli dico niente cancella solo un solido quindi selezioniamo anche l'altro solido e tu la abbiamo fatto una sorta di orologio osserviamolo interferenza i nomi ci interessano relativamente quindi adesso andiamo a fare la nostra parte standard in millimetri salviamola ma anche qua non ci interessa per niente il nome adesso andiamo a portare i nostri oggetti creati i nostri body ricordando di selezionare anche questo e andiamo a metterli nell'assieme nuovo che abbiamo creato attenzione però per comodità torno un attimo indietro perché certe volte ci si perde nelle cartelle quindi conviene andare qua copiarselo torniamo di qua ok andiamo nella nostra cartella selezioniamo l'assieme selezioniamo i corpi tre corpi next questa parte ci interessa poco andiamo ok e voilà abbiamo creato il nostro assieme ora questo lo togliamo dal vincolo che è bloccato in lucchettato come vedete adesso si muove andiamo e vincoliamolo qua e voilà abbiamo creato il nostro oggetto rotante come vedete adesso non mi dice assolutamente niente se vado a fare l'interferenza allora la prima cosa che andiamo a fare eccolo qua è scoprire come funziona l'analisi di interferenza che è singola nel senso io lo premo mi dice tra quali oggetti vuoi verificare se c'è interferenza e dico tra questo e questo non ci sono interferenze ma se lo metto così tra questo e questo ed ecco qua ci da un po' di dati tra qui soprattutto il volume dell'interferenza interessata ecco vi ricordo forse non ve l'ho mai detto ma se aspettate un attimo sopra le icone vedete che viene fuori l'help semplicemente poi f1 automaticamente vi porta sulla pagina internet dove parla dell'argomento dove potete scoprire altre cose che magari non vi ho detto io adesso uno direbbe attiviamo il contact solver il risolutore dei contatti e dice vabbè vediamo ma come vedete non succede assolutamente niente perché bisogna fare un passaggio prima che non è così automatico ma è quello di dire quali corpi vuoi verificare siano interessati li selezioniamo col tasto control li ho selezionati e qua andiamo a fare il contact set non mi ricordo com'è in italiano ora come vedete automaticamente il mio corpo è vincolato alla presenza dell'altro come vedete è molto preciso non pensate di poter lavorare con questa funzione sempre attiva perché è molto onore usare per inventor questo assieme è abbastanza semplice e va benissimo lavorando con assieme più complessi questa analisi di interferenza appesantisce notevolmente la cpu quindi dovete farlo ad hoc diciamo quando vi serve fate questo tipo di analisi quello che anche posso farvi vedere è questo allora creiamo un vincolo tra questo piano e per esempio questo piano ok adesso andiamo ad animare il vincolo tra 0 e 90 vediamo cosa succede automaticamente il vincolo animato tiene in considerazione ti hanno in considerazione se ho lasciato attivo questo il fatto che ho un'interferenza e mi fa questo movimento fin tanto che ora notiamo una cosa abbastanza particolare che è abbastanza preciso ma se andiamo qua posso addirittura disattivarlo scusate torno sull'animazione del vincolo drive posso andare qua collision detective e farlo andare collision detect allora nella primo caso avevo la funzione di contact solver attivo in questo caso l'ho abilitato qua la differenza è abbastanza strana non riesco a capire in vento come l'abbia pensata ma cosa accade? beh innanzitutto vediamo che vedete che si accorta dell'interferenza molto tardi perché? beh perché dipende molto da i passaggi che vogliamo fare se diciamo 0,5 vedete che ora la collisione è più piccola ok passiamo a 0,1 allora ci mettono un po' ad arrivare un po' un po' tanto però quello che ci interesserà è che chiaramente per unità di movimento più piccoli lui si accorgerà prima dell'interferenza e vedete che adesso si è accorto prima prima ancora di avere una una vera e propria diciamo così sovrapposizione dei corpi a cosa serve? allora io sinceramente l'ho usata pochissimo perché perché è più un gioco diciamo così nel senso che uno quando progetta almeno per i progetti che ho fatto io difficilmente ti vai a vedere problemi del genere senza accorgersi cioè non ti immagini già gli elementi come si possono andare a a collidere però magari per qualcuno di voi può essere interessante questa cosa andare a cogliere diciamo così qualche funzione qualche motivo più valido per utilizzarlo beh mi sembra di avervi detto tutto ovviamente se avete domande scrivetemi sotto io spero di rispondervi sono stato particolarmente veloce per questa pillola cos'altro potrei dirvi? ecco vabbè ribadisco una cosa solamente questa è importante che sia attivato il contact set senza il contact set vediamo se funziona l'animation con l'impatto andiamo a vedersi la mantenuta la mantenuta ecco magari andiamo di 1 invece che di beh abbiamo scoperto una cosa che non sapevo ma insomma come sempre si scoprono cose nel caso lo faccia attraverso l'animazione automaticamente se attivo la collision detection lui capisce quali corpi si toccano non gli ho detto quali corpi deve analizzare lui si accorge che se toccano due corpi è abbastanza interessante questa cosa perché non la sapevo perché prima dovevo dire io quali corpi potevano avere interferenze in questo caso lui l'ha capita da solo mentre se attivo il detect e rifaccio l'animazione e disattivo il collision non funziona però se gli dico scusatemi di analizzare questo collision ok disattiviamolo riproviamo a rianimarlo il drive vediamo qua è spento no non l'ha fatto ah no per forza non l'ha fatto se faccio attivo il drive e adesso il drive lo faccio partire ah ok era una casistica un po' strana prima no sono riuscito allora questo è un errore di invento perché io posso abilitarlo disabilitarlo se lo abilito me lo vede se lo disabilito me lo vede comunque perché questa funzione attiva vince su questa flag di collision detection vabbè insomma non è poi così importante come vi dicevo è tutto per questa pillola si scopre sempre qualcosa e aggiungo solo una cosa così se per caso a qualcuno potesse interessare metterò sotto un link se volete ricaricarmi allora premetto che praticamente non guadagno niente attraverso le visualizzazioni perché guadagno tipo 2 euro 2-3 euro al mese da tassare e dovrebbe essere tipo un 30-40% quindi non guadagno assolutamente niente dalla visualizzazione se voleste per caso farmi una donazione o accreditarmi del danaro su un conto di Amazon o su Paypal vi lascio il link sotto volete farlo o non volete farlo guardate la mia unica spesa è il tempo è un software per il montaggio che quello pago annualmente è un tot di euro ma non è rilevante insomma cioè sì non è economico però non lo faccio per andare lo farei per andare in pari sarebbe già sufficiente è tutto ragazzi continuate a seguirvi iscrivetevi se vi interessa accendete le campanelle le luci quel che serve per farvi arrivare le news quando faccio un nuovo video ciao ciao